Il fatto del giorno, Marco Bencivenga, direttore della provincia di Cremona. Oggi vi parlo della prigione più famosa al mondo, Alcatraz. È il carcere per antonomasia, Alcatraz, la prigione dalla quale è impossibile fuggire. Il governo degli Stati Uniti la dichiarò penitenziario federale di massima sicurezza l'11 agosto del 1934. In realtà l'isola prigione già nell'Ottocento era stata utilizzata per la detenzione di pirati, criminali di più svariato tipo e prigionieri di guerra. Ma la svolta fu appunto da quell'anno in poi. E il detenuto più famoso nella storia di Alcatraz è stato Alcapone, il celebre capomafia di origine italiana. Era la stagione dei gangster e ancora oggi la cella in cui per oltre 4 anni fu rinchiuso Alcapone è l'attrazione principale per il milione di turisti che ogni anno visita l'isola prigione. Ma davvero nessuno riuscì mai a fuggire? Gli annali dicono che i tentativi furono 14 per un totale di 36 prigionieri. Gran parte morirono durante la fuga, furono ammazzati dalle guardie oppure annegarono nelle gelide acque della Baia di San Francisco. Di tre di loro però non si è più avuta traccia, forse ce l'hanno fatta. Il penitenziario fu chiuso nel 1963 per un motivo molto semplice, costava troppo. Una curiosità riguarda l'Italia perché anche l'Italia ha alcune isole prigioni, dall'Asinara a Ponza, da Santo Stefano alla più famosa di tutte, l'isola di Monte Cristo. Tre isole prigione sono ancora oggi attive, Favignana, Gorgona e Porto Azzurro. Si trovano in posti bellissimi ma il consiglio è andiamoci da turisti.